Allora Michele, com'è l'atmosfera nell'ambiente? Difficoltà se sono penso al primo gol di Lautaro, la difficoltà. Quando dici? Con la Lazio 1 un mese fa. Lazio-Inter. Ah, quella di campionato. Le grandi difficoltà, gli ha regalato il primo 1-0, gliel'ha regalato, gliel'ha servito. Vai in rete, vai a segnare. Marcello si riferiva proprio fino a quel momento. Era un Lazio diversa. Era un altro Lazio, però. Ma ve la ricordate? Fino a quella papera della difesa che serve Lautaro, la Lazio aveva fatto una bella partita nei primi 40 minuti. Oggi l'hanno ricordato anche a Sarri in conferenza e ha detto serve non fare, col suo solito linguaggio colorito, insomma, fesserie dietro come quella. Però nei primi 40 minuti aveva giocato bene. È una Lazio che però viene da cinque vittorie consecutive, tre partite non ha preso gol, in un altro momento rispetto al 17 dicembre quando l'Inter ha vinto a Roma. È vero che anche la Lazio avrà delle scelte particolari. Per esempio Immobile io me l'aspetto a gare in corso nel secondo tempo con Felipe Anderson, falso 9, perché magari si può andare anche ai rigori e quindi Immobile è un rigorista, poi non ha i 90 minuti. Luisa Alberto ha fatto capire Sarri che potrebbe partire dalla panchina perché parte Vesino, perché Luisa Alberto è uno che magari con l'Inter gli piace metterlo quando i ritmi anche dell'Inter possono essere meno elevati. Insomma, scelte un po' particolari magari, mentre dalla parte di Inzaghi io mi aspetto l'Inter dei quelli definiti titolarissimi. Forse il ballottaggio è a destra tra Dunclis e Darmian, per il resto torna Cerbi che non ha giocato col Monza, ma aspetto che possa tornare. Gli altri... C'è Barella diffidato, però diffidato per la Fiorentina. Secondo me alla fine Barella, Cianoglu, Mkhitaryan, Turam, Lautaro... Quindi di quella che stiamo vedendo forse tutti gli resti di Evrae mentre si è a Cerbi, però non è detto, è un ballottaggio. Non è detto perché se gioca Felipe Anderson non c'è magari a Cerbi con Giroud, Simen, Vlaovic, con questi qua, vai a Cerbi sul sicuro. Però Devrae sta giocando sempre bene quando l'ha chiamato in causa, col Monza adesso è stata l'ultima. Non credo che però con Inzaghi a Cerbi salti due partite dal primo minuto, quindi mi aspetto un po' di più a Cerbi. Per il resto credo che saranno questi. Quindi questa è la formazione. Giacomo, che arriattira, insomma? Ma no, la formazione è una buona formazione. Adesso si gioca a Dunf, si gioca a Darmian, dipende da Inzaghi come vuole impostare la partita con la Lazio. Però comunque, secondo me, anche Devrae con la Cerbi sono due giocatori che stanno bene tutti e due. Anch'io sono d'accordo con Michele che se stanno bene tutti e due secondo me parte con la Cerbi. Sulla carta, noi dobbiamo parlare sulla carta, però poi sulla carta viene smentito. Io ti dico, la Lazio sta giocando bene. È una squadra che secondo me ogni tanto fa delle prestazioni che dice, ma questa è la Lazio. Poi la partita dopo gioca divinamente. È una squadra che ha dei giocatori che possono veramente fare la differenza perché è una bella squadra. Perciò ti dico, è una partita un po'... Diciamo, io non saprei dirti, parlando seriamente, se tu mi dovessi chiedere, chi vedi favorita? Io non vedo nessuno favorita. Questa domanda l'hanno fatta Sarri. Lui oggi ha dato delle percentuali che secondo lui ha la Lazio di passare il turno e andare in finale. Andiamolo ad ascoltare allora questo passaggio. La partita più difficile ce l'abbiamo noi. Gioriamo contro la squadra più forte d'Italia, contro la squadra fra le più forti d'Europa. Le possibilità di andare in finale non sono oltre il 25-30% e ci dobbiamo giocare quelle in maniera cattiva. Stop. Ce la giuriamo. Loro sono più forti di noi. Domani dovremo però dimostrare sul campo perché noi ce la giuriamo. 25-30% Marcello non di più. Sei d'accordo con Sarri? Ci sta, ragazzi. Sì, sì. Lui chiaramente provoca e abbassa ancora di più il quaziente della sua squadra. Però secondo me domani... Cioè, è vero, la Lazio è una bella squadra ma quest'anno ha avuto tanti problemi e soprattutto non riesce a esprimersi come l'anno scorso. Non ce la fa. Io ho visto anche la partita che ha giocato l'ultima con Lecce. Ha rischiato anche di fare una 1. Ha rischiato di finire una 1 con Lecce. E tante partite, anche in casa, le rischia di non vincere. Fa grande fatica. Sì, adesso è in scia positiva da quattro partite però non è la solita Lazio. L'Inter invece è in palla. Secondo me l'Inter vince e si mangia pure il Napoli perché il Napoli, visto questa sera, l'Inter... Comunque la pressione c'era l'Inter, secondo me. Cioè, è vero che Sarri gliela dà. Sì, ma tu guardi i pari. Mi guardo i valori in casa. Però ascoltami, Giacomo, chi è che rimane ciò? Se la Lazio perde, ci sta. La Juventus è più forte. Se l'Inter perde, è un obiettivo che è mancato. Sì, però, quando prima hanno intervistato Inzaghi se avessi detto Ah, ma noi giochiamo contro una Lazio che arriva da quattro, cinque giornate positive... No, però ha detto che voglio vincere, però. Ha detto che la voglio vincere. No, ma aspetta. Se noi avessimo sentito un'altra conferenza di Inzaghi... Inzaghi è stato onesto. Ha detto Giochiamo contro... Non si sa... Adesso ha saputo il Napoli se dovessero vincere fa la finale con il Napoli. Però lui ha detto che ci sono lì quattro squadre importanti. Allora, è stato l'unico che ha detto quello che pensa. Perché Sarri, comunque, può essere che lui pensi che la sua squadra è inferiore all'Inter. Ma questa è una tattica. Perché secondo me, dicendo così, i suoi giocatori danno il 300%. Hai capito? Poi, se noi vogliamo analizzare sulla carta è chiaro che tutti noi diciamo che l'Inter è più forte. Sulla carta, che non vuol dire niente. Giacomo, ti posso fare una domanda? Perché io sono stato un po' sorpreso dall'approccio forte dell'Inter. Non pensavo stesse subito così bene. Perché? Perché dal 20 di dicembre, più o meno, dopo la Lazio, dopo il 17 dicembre c'è stata qualche partita che l'Inter ha vinto in modo diverso, un po' in gestione, un po' soffrendo la più brutta col Genoa, proprio brutta partita. Qualcosa anche magari non meritava i tre punti. Eh sì, sì, appunto, col Verona, col Genoa. Non è stata la solita Inter. Allora io ho detto l'anno scorso e due anni fa ha avuto un calo fisico verso febbraio-marzo. Magari quest'anno... Però era coinciso col calo di Lautaro in quel caso. Sì, però io voglio dire che un calo fisiologico ci può stare. E magari dico, quest'anno, per come hanno un po' preparato tutta la stagione, è avvenuto tra metà dicembre e metà gennaio. Il fatto che col Monza abbiano dato subito una risposta, secondo te può essere che il calo, quindi, è stato in 20-25 giorni e possa adesso esserci uno status... e non ci sarà a febbraio tra un mese e un calo? Adesso, se non ci sarà non te lo posso dire, però, secondo me, quello che hai detto tu, è successo perché è arrivato a un punto dove tutti erano stanchi. Perciò, o per un motivo o per l'altro non ce la facevano più perché, oltretutto, quest'anno ha cambiato il modo di giocare e tu l'avrai notato. In fase di non possesso come perde palla vanno come degli assatanati a conquistare palla. A aggredire. No? Ed è... Perciò c'è uno spreco di energia ancora di più. Detto questo, col Monza poi sono ritornati a giocare perché la settimana prima secondo me sono riusciti ad allenarsi. Cosa che è detta non da Inzaghi solo ma di tutti gli allenatori. Se fai tante partite non puoi allenarti e quello è un problema. Ok? Se poi hai pochi giocatori a disposizione che puoi cambiare diventa ancora più un problema. Allora, l'Inter secondo me ha avuto un problema fisico come hai detto tu. Poi hanno avuto una settimana di recupero perciò si sono allenati una settimana intera Anche di più di una un paio. Sì, però io dico una settimana giusta e hanno avuto la possibilità di recuperare perché comunque non parlo solo di quelli dell'Inter ma tutti i giocatori ragazzi ma noi ci rendiamo conto cosa stanno facendo questi giocatori ma non solo quest'anno anche l'anno scorso. Cioè in pratica non riescono più ad allenarsi fanno le partite e vanno a mille all'ora. Sì, questo vale per tutte le grandi diciamo che è quello il calendario. Perché quelle che come dici te Fede che fanno una partita a settimana hanno la possibilità. La Juve ha questo discorso diverso che per quest'anno non fa la possibilità. Però sul discorso scusa e finisco sul discorso da Juve-Inter anche su questa cosa lì poi dipenderà tanto da chi avrai a disposizione perché se hai la fortuna di aver tutti a disposizione è un discorso ma se ti viene a mancare qualche giocatore cambia tutto il sistema. Soprattutto all'Inter per esempio in attacco perché i due titolari hanno fatto 18 in campionato più 8 26 gol in due. Per esempio tu all'Inter tu adesso vai su Lautaro perché è quello che ha fatto più gol che partite ma io ti dico un giocatore come Cialanoglu e Michitare che hanno fatto tutte anche loro. Michitare ne hanno giocato sempre. Ne hanno fatte praticamente tutte. Abbiamo visto la Lazio adesso c'è il dubbio no? Felipe che potrebbe fare ancora il falso falso nueve anche se il fatto anche se il fatto di mandare Immobile in conferenza è vero che il capitano tu dici che parte Immobile di solito è un segnale quando ti porti tra l'altro sai che però se parte Immobile sta fuori Isaac Samson Felipe Anderson va a destra oggi Rovella ha preso una botta da Felipe Anderson in allenamento e dicevano che è in dubbio no no ha già ripreso gioca? no ha ripreso non è una cosa grave non so poi se lo fa giocare che non sia grave sì però dicevano che addirittura poi non si sa da valutare no diceva Alberto Immobile in conferenza ce l'abbiamo perché tra l'altro uno dei temi visto che si gioca a Riad è proprio che Immobile e lo sapete benissimo è corteggiato dal campionato arabo sentiamo un po' cosa ha risposto su queste voci di mercato addirittura per il mercato di gennaio Immobile sicuramente un campionato in crescita sto vedendo anche rispetto al 2019 che siamo stati qui le infrastrutture sono cambiate stanno portando avanti un progetto importante quindi credo che ora tutti stanno puntando gli occhi sulla rabbia e credo che tutti vogliono credere che nel futuro ci sarà un campionato importante qui come stanno cercando di fare la Lega Saudita quindi in passato ho avuto avvicinamenti con alcuni club qui però poi alla fine non si è fatto più niente io ho cercato sempre di essere più limpido e onesto possibile con me stesso e con gli altri quindi alla fine ho deciso di rimanere alla Lazio e di portare avanti un progetto quello di crescita della squadra e del club Marcello è un modo un po' di preparare il terreno questo di parlare bene del campionato arabo oppure semplicemente educazione insomma sei lì ti fanno una domanda rispondi ma tutte e due io penso che sia perché sei lì e sì perché magari è un'offerta araba sono offerte importanti lui sta andando verso il finale di carriera alla Lazio non gioca nemmeno più titolare quindi sai capisci che per lui potrebbe essere una proposta molto allettante quindi magari lui l'accetterebbe pure non penso a gennaio non penso a gennaio però quest'estate sì tu l'hai avuto al Tor era il periodo quello con Ventura i due attaccanti erano lui e Belotti tu eri in quel periodo eri nello Stato c'era anche l'Europa League a destra giocava Cerci era l'immobile Cerci sì sì è immobile Cerci a destra che poi lui era un mancino orientale che ha fatto un campionato io ricordo una partita col Genoa Genoa che segna con Gilardino intorno ai minuti finali e segnano poi Cerci e Immobile nel rimbaltando a quella non lì è tipo 95 ma tu per come l'hai conosciuto per come lo conosci lui potrebbe andare via ma secondo me sì potrebbe andare però lui quest'anno è stato fermo non gioca perché ha avuto un sacco di problemi fisici perché se lui fosse stato bene lui avrebbe giocato tutto l'anno anche quest'anno se non sbaglio lui è un 90-91 come età perciò io ti dico non so la fine dell'anno cosa deciderà lui e la Lazio perché adesso Giacomo sono tutti proiettati sull'europeo vedi anche Ken la scelta che sta facendo per me Immobile rischia di non andare no ma in questo momento credo che il problema per Ciro Immobile sia proprio il recupero fisico perché lui è un giocatore che se non sta bene fisicamente fa fatica cioè le qualità sue sono forza fisica corsa se voi doveste scegliere oggi i due per l'europeo tra Scamacca Raspadori Immobile ma non ce n'è uno che sta facendo bene di questi davvero all'inizio sembrava inizio stagione a settembre Scamacca Retteghi davanti non segna nessuno noi davanti secondo me se non cambia qualcosa sembra la Fiorentina non c'è il centravanti sembra la Fiorentina Gabriele Iovic io secondo me alla fine lui Scamacca lo porta lo porta ma deve crescere tanto comunque tra tutti questi che avete nominato il migliore è stato Raspadori Raspadori per i minuti giocati Raspadori ti è utile perché può fare più ruoli non ha segnato tanto però neanche lui Raspadori è un jolly esatto e fa più ruoli io pensavo che Raspadori potesse essere però se tu calcoli i minuti che ha giocato e i gol che ha segnato ti rendi conto che il suo rendimento è superiore a quello di Tampano però non è un centravanti però noi lì davanti come diceva Fede abbiamo dei problemi perché purtroppo sta facendo male o per un motivo o per l'altro io spero ti dico una cosa spero in Luca dell'Udinese dici? no spero spero beh Luca qualche gol ultimamente l'ha fatto magari allora io secondo me per il gioco di Spalletti Raspadori mi sembrava veramente che potesse essere adatto lo porta lo porta Spalletti Spalletti ti parla della scocca che ha per esempio Ken dice nel calcio di oggi devi avere quel motore quella fisicità tra l'altro Ken che sta andando all'Atletico Madrid e poi dopo ne parliamo però quindi si pensa non so quanto possa andargli bene per l'Europa infatti si diceva Ken può andare a giocare magari al Monza alla Fiorentina invece va a Madrid a fare il vice di Morata però dico se Spalletti pensa a uno che abbia fisicità lì non è allora Raspadori il suo titolare che non lo so per trovare uno che ha fisico diventa anche un problema Scamac è l'unico Scamac è l'unico che ha fisico ho capito però non puoi mettere uno perché c'è il fisico non lo gioca mai ma è perché è stato tanti infortuni Scamac ha avuto molti infortuni e Gasperini si è inventato diciamo così in quel ruolo de Keter che l'anno scorso zero gol in 40 presenze sette gol e cinque assist in un girone voglio dire non sta facendo malissimo però stando sull'attaccante italiano c'è Massimiliano che non è proprio contentissimo voi secondo me avete fatto un grande errore e loro hanno fatto un grande acquisto io aspetto solo il bonifico è diritto di riscato non l'ha ancora esercitato ragazzi mi devo fermare vado in pubblicità rientro sempre Inter ma ci aggiungiamo la Juve perché quelle parole di Allegri anche una cosa di Inzaghi quando parla della lotta Scudetto una domanda ce l'ho quel passaggio parliamo della Juve Fede dopo no parliamo di Inter-Juve perché Inter-Juve hanno provato perché Inzaghi ha risposto a quella battuta di Allegri sulle guardie che inseguono i ladri che ha scatenato un putiferio anche se probabilmente Allegri non la voleva neanche dire ma non lo so io mi sono fatto l'idea conoscendolo Allegri l'ha detto ma magari non era neanche quello ormai l'ha detto quindi rimane a tra poco Rieccoci Inzaghi risponde ad Allegri su quella battuta battuta o no non lo so questo adesso me lo dite voi io l'ho interpretata un po' come un'uscita scherzosa che però è diventata invece una polemica furibonda lui magari non lo voleva fare però magari invece mi sto sbagliando io anzi io farei una cosa prima andrei a leggere in grafica che cosa aveva detto Allegri martedì sera dopo Juve Sassuolo così ci rinfreschiamo un po' la memoria per quei pochi che non lo sapessero insomma la battuta qual è stata eccola qui noi cacciatori dello scudetto se c'è qualcuno davanti dietro c'è chi insegue è un po' come il gioco guardia e ladri dove i ladri scappano e le guardie rincorrono e qui Marcello giustamente anche si è scatenata la polemica perché veniamo da settimane furibonde di discussioni sul VAR sugli episodi pro Inter secondo alcuni Allegri parla di guardie che rincorrono i ladri ma secondo te lui voleva dire proprio questo? Dov'è l'errore? Lo so che tu sei d'accordo no no tu sei in quella chiedo dov'è l'errore? dov'è l'errore? dov'è l'errore? L'errore della metafora perché noi stiamo parlando di metafora è che la metafora scatta da domenica è borre è borre è borre è borre è borre la metafora è chi ti rincatta da domenica la metafora venatoria allora ci sono le metafore venatorie di Marotta e qui invece c'è un altro tipo di metafora che però poliziesca scusate poliziesca ma perché? perché in fin dei conti di cosa stiamo parlando in tutte queste ultime settimane? stiamo parlando di tutti gli episodi a favore dell'Inter cioè quando succedeva all'Inter che notava e non c'era l'epoca del VAR e gli interisti ogni domenica avevano da dire sugli arbitraggi della Juve cosa dicevano? i soliti ladri la banda Bassotti fuggono sempre col bottino la banda Bassotti è la coreografia della curva mica lo dice l'allenatore cioè non capisco perché per decenni abbiamo sentito questa storia che strano da parte gli interi forse perché adesso lo dice lo dice è stato in 3.000 scandali consecutivi ti chiedi come mai hai ragione hai ragione però il problema è che lui è in collegamento quindi c'è sempre quel secondo di ritardo no prometto Michele che poi ti do lo stesso spazio ci mancherebbe quindi facciamolo finire e poi dopo vengo da tempo e poi se mi prendessi chissà che spazio sai mi prendessi chissà che spazio poi prendo due minuti comunque io dico decenni per decenni l'abbiamo sentita stati ritera da parte di Tesserati cioè Moratti per anni senza fare battute Moratti Massimo Moratti non faceva battute per niente faceva dichiarazioni sempre contro la Juve ve ne ricordo una ve ne ricordo una visto che questa dice che è stata inelegante Juve Juve Inter a Torino con Conte allenatore stramaccione allenatore dell'Inter la Juve segna per prima 30 secondi poi l'Inter stravince e ancora e certo tu dici segna devi dirla tutta segna con un fuorigioco di 18.000 metri e quindi gli ridicono un qualcosa abbiamo perso Chirico momentaneamente perché dice la Juve segna e quello si inca come fai a capire la storia però posso dire è meravigliosa la scena della scena io ho fatto uno bella shot di quella Marce rimani qui rimani qui discuti respira respira e ritorna sul ring non è che purtroppo non lo capisce glielo diciamo in dieci glielo dice il conduttore non lo capisce sai televisione è ancora è ancora ma fatti una tv tua ma fatti una tv tua e parli dalla mattina alla sera non la buttare così non puoi dire la Juve segna punto no non è vero la Juve segna con un gol in fuorigioco segna mi fai finire segna dopo 30 secondi e c'era un leggero fuorigioco di Asamoah loro vincono 3 a 1 Moratti nonostante la vittoria all'Allian Stadium allora si chiamava J Stadium che era stato inespugnato fino ad allora nonostante quella bella vittoria riesce a dire la sera è tutto sintetizzata la nostra differenza tra noi e loro da quella prima rete eppure tutti i li a dire che battuta che roba tutto è spirito cioè lo fa una volta Allegri mancanza di stile come si fa ma perché la butta in questo cosa la butta in cacciata così non è vero Allegri dice esattamente quello che pensano tutti quelli che non sono interisti in questo momento quindi lo voleva dire secondo te voleva proprio arrivare a toccare quel tasso lì Massimiliano Allegri oggi sulla gazzetta cosa dicono nei retroscena di tutti gli off the record che i colleghi hanno raccolto che loro gli hanno detto praticamente che gli è stata suggerita questa battuta da quelli di Torino e poi quelli di Torino cioè dove lavora Allegri a Torino alla continasse parla sicuramente con Ferrero Scanavino con Giunto e che cosa secondo voi parlano in questo periodo alla continasse degli episodi a favore dell'Inter e diranno tra di loro è certo che quest'anno l'Inter la favoriscono lo diranno e poi quando ti fanno la domanda lui gli è venuta di fare questa battuta la battuta la battuta allora sentiamo la risposta di Inzaghi e poi vengo da te Michele cosa ha detto oggi Inzaghi in conferenza stampa a proposito di questa battuta sentiamo sentito e letto qualcosina insomma penso che sia una normale dialettica del mondo del mondo del calcio insomma che tanti anni che sono in questo mondo e quindi lo conosco io quello che posso dire che senz'altro in campionato c'è un bellissimo duello tra l'Inter e la Juventus ma non dimenticherei il Milan che è lì a pochi punti è una squadra è un'ottima rosa che in questo momento sta bene quindi penso che la lotta al di là di Inter e Juventus ci sia da contare assolutamente anche il Milan ragazzi sulla cosa del Milan teniamola un attimo da parte perché ovviamente la affrontiamo perché voglio capire se siete d'accordo però sono in debito giustamente nella replica di Michele sul discorso guardi e ladri vai Michele partiamo da quello che ha detto Inzaghi che eleganza che stile che differenza proprio non scende come aveva detto anche Marotta l'altro giorno quando ancora non c'era guardie e ladri ma c'era Marotta cioè non fa come Moratti dice che faccia di bronzo che sei non interrompe lo stai interrompendo però io adesso veramente critico Allegri che alimenta le polemiche non devo essere io alimentare e ti dico semplicemente che secondo me Allegri ha visto nel futuro dal 21 di gennaio al 4 di febbraio la Juve sicuramente sarà davanti e quindi con quella maglia un po' così con quelle strisce un po' così si è visto nella metafora ladro si è visto perché ha scritto anche lui comunque tante pagine di una società che diciamo tante volte è stata diciamo in alcuni processi è capitato quindi voglio dire Marcello si chiede come mai ci hanno sempre detto come mai è successo l'ultimo la UEFA ha squalificato la Juve dall'Europa nell'ultima stagione ci sarà un motivo non lo so ha squalificato mica l'ho squalificato io mica l'ha squalificata lì sta avendo una crisi di nervi Chirico ma ti chiedi come mai io ti dico come mai non andare via non lasciare la sedia vuota stai lì però Marcello è stato un coup de teatro notevole bellissimo è la scena bellissima no però io credo al di là di quello che c'è tosta di riuscire ma se partiamo così però Marcello da gennaio il 26 maggio che diciamo però scusa Michele io invece parla dei processi parla dei processi se no perché hanno avuto i processi ma mica uno 57 mila ma la relazione Palazzi 2012 voi l'avete la relazione la relazione Palazzi ma di là ci sono le ciclopedie ma il passaporto di Recoba che Oriale ha dovuto patteggiare col penale ve lo ricordate ho capito ma in tutte le volte che avete patteggiato ci sono tutti è inutile andare così no esatto però posso dire secondo me secondo me Allegri allora sicuramente è stata una cosa un po' maliziosa però nell'ambito di una dialettica come ha detto Inzaghi che ci sta nel senso la metafora ma la metafora era venatoria lepre ma venatoria non è offensivo essere cacciatore chi è che insegue la guardia insegue il ladro scusa Max il cacciatore è offensivo il cacciatore è offensivo il cacciatore è offensivo rispondimi il cacciatore è un'offensa tu sei cacciatore la metafora è uno insegue e uno scappa ok questa è la metafora quindi può essere guardia secondo me ma dipende come scappi secondo me non è un complimento allora non è un complimento ma scappa no però Marcello Marcello sta dicendo che tu sei scappato perché hai avuto dei favori eh io ti sto dicendo che ti hanno certificati anche l'AIA se non ti piace eh ho capito devi dire sempre tu la lepre chissà se riuscirò a finire questo la lepre scappa la volpe perché poi dopo il giorno dopo ha usato la volpe dipende sempre dall'animale scappano perché sono inseguiti dai cacciatori che lo vogliono colpire che bisogna sempre vedere se i cacciatori hanno i proiettili se hanno i proiettili a salve o hanno i proiettili veri ecco perché qui in quest'ultimo periodo i cacciatori c'erano sempre i proiettili a salve chi vuole capire capisce Borrelli non so se capisce mentre invece mentre invece è un'offesa fin qua no non è un'offesa no fin qua non è un'offesa no era una battuta no dico il cacciatore non è un'offesa dare del cacciatore non è un cacciatore ma il problema è che lì stiamo parlando di un animale che fugge per non essere braccato il problema invece è che qui abbiamo gente che scappa con la refurtiva dovuta al fatto che hanno avuto tanti forse troppi episodi a favore che li hanno favoriti perché quando ti si dice l'episodio non ho finito quando non ho finito quando finisco parli infatti quando parli te io non parlo se noi andiamo a fare il calcolo di tutti i favori eccetera io mi fermo la black list dell'AIA perché poi tra l'altro ce ne sarebbero anche altri che sono stati inseriti e vabbè in quegli otti però ne mancano tanti altri ma noi usiamo solo quelli la Juventus e l'Inter sarebbero pari la Juve e l'Inter se non ci fossero stati quelli sarebbero pari hai sbagliato i calcoli nella black list c'è per la Juventus Juve-Bologna il Malinowski espulso che però è peggio per chi affronta il Genoa domenica dopo e basta sì però noi sappiamo che in realtà il rigore di Bani in Genoa-Juve sappiamo che anche però cambiasso in Genoa-Juve però non l'hanno messo nella black list adesso lui ha tirato fuori la black list ma stavi pure tu qua che negavi davanti all'evidenza ragazzi mi fate sentire no però aspetta sulla black list sulla black list la black list ci dobbiamo intendere perché c'è Sassuolo-Juventus 2 a 1 per il Sassuolo doveva essere espulso Berardi l'unica sconfitta dell'Inter viene da un giocatore che non doveva giocare però magari se Berardi fosse stato espulso la Juve non perde la partita ma cosa c'entra chi lo sta giocare ma lo fanno giocare ma cosa c'entra io sto parlando ma cosa c'entra intanto ragazzi posso dire una cosa il rigore da dare a Berardi se noi andiamo a vedere se noi andiamo a vedere dal prima giornata del campionato adesso non finisce più perché gli errori sono stati fatti più o meno su tutti e con tutti come no come no come no perché adesso noi stiamo parlando di giustamente sull'Inter e Juve ma non c'è solo Inter e Juve nel nostro campionato secondo me io vorrei rimanere sulla battuta o su quello che ha detto Allegri io sono d'accordo con Max secondo me non è stata una cosa mirata o che voleva offendere è uscita così e poi dopo chiaramente ognuno l'ha interpretata come vuole però io dal mio pensiero è molto vicino a quello di Max secondo me non l'ha detta per offendere l'ha detta perché in questo momento c'è una squadra che scappa e una che la insegue punto però ricordiamoci che se andiamo a guardare parlo solo di quest'anno perché se no se andiamo indietro vent'anni non finisce più da quest'anno dalla prima di campionato adesso su per giù sono lì perché non va allora adesso parlo seriamente non da tifoso dell'Inter perché non posso pensare che l'Inter è lì perché ha rubato l'Inter è lì perché ha giocato meglio degli altri eh sì eh sì e però questo questo no ti dirò di più Marcello e la Juventus è subito dietro no ti dirò di più io l'ho detto anche l'altra sera è lì perché ha giocato meglio degli altri ed è stata più costante e la Juventus è lì perché ha fatto altrettanto no 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 ma io voglio dire una cosa chiara secondo me l'Inter è in testa alla classifica perché è la squadra più forte del campionato questo è normale però che ci siano degli arbitraggi diversi dall'Inter e alle altre squadre sì questo lo noto gli arbitraggi il modo di arbitrare l'Inter è diverso da quello in cui vengono arbitrate le altre squadre ma no ma ce l'ho però sinceramente io non posso pensare a Monza sarà perché io sono stato tanti anni in quest'ambiente e ho avuto la fortuna non posso sì posso capire che c'è l'albito che sbaglia il varista che sbaglia per carità quello sì ma io mi sento a dire che sono prevenuti a favore o contro una squadra ma Giacomo ma Marbello ti dici che Gagliardini non è rigore ti dici che Gattipugno non è rosso cioè lui ha tutte le sue visioni parallele però Michele posso dirti poi ognuno ogni tifoso della propria squadra cerca di portare l'acqua al suo mulino perciò vai a cercare degli episodi che tu dell'Inter o io del Torino sono stato danneggiato non vado a vedere quelli che sono stato favorito Alberto Alberto tu che dici poi dopo andiamo sull'altra parte della dichiarazione di Inzaghi lo facciamo dopo la pubblicità ma su questa diatriba guardie ladri una battuta uscita male secondo me da parte di di Allegri che comunque magari determinate cose le pensa Marcello citava prima quello che si possono essere detti anche in sede nel quartier generale bianconero poi alla fine Allegri lo conosciamo uno che della goliardia del sarcasmo fa sempre una delle sue virtù a volte magari è esagerato sotto alcuni punti di vista con alcune uscite altre un po' meno essere presa sul personale gridando un po' alla sua permalosità direi che è una battuta presa come tale ho apprezzato molto la gestione di Inzaghi quest'oggi in conferenza stampa nel voler buttare un po' di acqua e non benzina in questa situazione anche perché ho la sensazione che questo derby d'Italia ce lo porteremo fino a maggio per la fortuna del campionato perché tanto Inzaghi ha già detto prima di partire per Riad che a rispondere a queste illazioni sugli episodi sugli favori fatti all'Inter ci penseranno i miei bravi dirigenti ma Marotta è bravo infatti domenica infatti domenica infatti domenica la Juve sono stati sono stati designati Doveri e Valeri ah e cosa vuoi dire con questo Marce che domenica Doveri è quello di Genoa Inter l'unico che non vede la spinta di Bissek su Strotma quindi Doveri è quello lì e poi tante altre infelici arbitraggi Valeri è quello della finale di Coppa Italia tra Juve e Inter dove ha fatto di tutto di più quel rigore dato a Lautaro sì il rigore dato a Lautaro che Lautaro si conquiste in maniera Lautara più Brozovic che doveva essere espulso sul 2 a 2 più 2 due rigori possibili quindi ci vedi ci vedi il triangolo di mano dell'anno scorso te lo sei già dimenticato il triangolo di mano a San Siro lo 0-1 il rigore che ti ha dato 50 milioni alla penultima alla terza ultima giornata l'anno dello scudetto dell'Inter Quadrado Perisic Napoli fuori dall'Europa te lo sei dimenticato il rigore 3 a 2 non me lo ricordo anch'io il gol dell'anno scorso col braccio e anche quello di Quadrado ma il 3 a 2 50 milioni ha spostato due anni e mezzo fa come non te lo ricordi ma quello era il rigore netto ma quello era il rigore netto rigore netto ma di cosa parli ma di cosa parli il 3 a 2 il 3 a 2 l'anno dello scudetto di Conte rompete ancora i coglioni ancora con Ronaldo e Giuliano che non hanno mai dato quel rigore lì in tutti i vari campionati quando c'è stata un'occasione del genere non hanno mai dato rigore e voi rompete ancora i coglioni stai facendo come Allegri una caduta di stile perché bisogna dirvele in faccia ma non è vero tu hai tirato fuori un episodio e tu non ho tirato un altro c'è Genoa Juve dove c'è un fallo di mani di Bani che addirittura il designatore dice beh per me è più rigore che no voi cosa andate a trovare? cambiaso non se ne ricorda nessuno di quelle figlie appunto questo è lo scandalo che invece alcuni episodi si fa luce e altri no l'abbiamo visto al processo qua l'abbiamo visto c'eri tu in studio tutti all'unanimità rigore anche per il Genoa sullo 0 a 0 però tu lo voglio mettere tutte le cose importanti le mettete da parte quelle che sono evidenti sono importanti i rigori contro la luce non sono importanti ragazzi io vi lascerei andare avanti ma devo fermare alla pubblicità comunque torniamo e completiamo il discorso anche con quella frase di Inzaghi che non vede solo un duello scudetto vede una lotta a tre con il Milan di Lavia vediamo se anche qui siete d'accordo il Milan è ancora in corsa per lo scudetto allora c'era Alberto che aveva una curiosità su questa su questo discorso di Inzaghi il Milan è ancora in corsa per lo scudetto qual è la curiosità? beh sinceramente oggi è il momento del restare stupiti sono rimasto anche io stupito cos'è il stupore questa faccia qua questa è un po' schifata cosa c'entra questa roba ma perché tu la guardi così perché c'è scritto Milan perché hai il cuore rosso nero perché ti scorre sangue rosso nero perché qualsiasi altra squadra con questa distanza non da una ma da due formazioni con i problemi che ha avuto in difesa ma soprattutto con un calo che continua costante anche del suo giocatore più rappresentativo che è Raffa Leao fatico a pensare che si possa ancora finire in lotta per lo scudetto è un aggravante questa perché se comincia a giocare Leao come sa fare come può fare a fare la differenza perché Milan non dovrebbe inserirsi? allora posso dirti una cosa ancora di più con la lotta 2 sarei anche d'accordo Inter distante anche 9 punti quello che è Milan 8 perché l'Inter è straimpegnata da più parti avrà probabilmente per un periodo la testa soltanto la Champions League però con la Juve lì dietro non lo so fino a che certo punto quindi con una lotta 2 potrei anche essere d'accordo dicevamo già che è difficile che entrambe 7 punti con gli scontri diretti ragazzi abbiamo 9 punti ma sto dicendo 7 con la Juve e 9 con l'Inter ma è difficile che due squadre della caratura di Inter e Juve che hanno lottato in una maniera è una marcia incredibile nel giornale d'andata e soprattutto la seconda la Juventus non ha le coppe è difficile che entrambe possano mollare poi se le vinci tutte mi ricordo le partite del Milan che per demerito per l'amor di Dio nel senso abbiamo dilapidato un sacco di punti con le piccole lo ricordo anche Napoli, Lecce, Udinese sono già solo quelle sono già 7 punti però non li fatti ho detto per demerito ricordo anche come la Juventus è lì perché alcune partite della Juventus sono vinte al 92esimo 96esimo gatti che segna e che non vale arriva l'altro arriva l'altro questo è cronaca non lo so se dura 100 minuti una partita non vale fammi finire il discorso non sto denigrando la Juventus sto facendo un'analisi di come siete arrivati lì quindi se si inverte la tendenza e Leao comincia a essere determinante come riesce a terminare e inanelliamo 3-4 vittorie di seguito io non lo so ma 3-4 vittorie però non lo so anche Inter e Juve fanno questo è il discorso Max sopra scontro io non lo so secondo me devi fare un filotto di almeno 6-7 vittorie per recuperare qualche punto visto che tu parli del fattore Leao se proprio dobbiamo dirla tutta per me è molto più semplice che il Milan vinca l'Europa League rispetto a che possa essere competitivo ancora per lo scudetto perché Leao ti fa fare il salto di qualità in Europa e in Europa tu te la giochi alla stragrande sono d'accordo soprattutto perché questo è il calendario del Milan ragazzi intanto diamogli un occhio Udinese-Milan e la prossima poi c'è Milan-Bologna poi c'è Frosinone-Milan e poi Milan-Napoli questo prima dell'Europa League che poi notavamo che poi prenda territorio nel Monza notavamo insieme a Michele prima non è un calendario impossibile no il calendario è tutt'altro che è impossibile ma si notava con Michele prima che tu hai la grande possibilità di fare un solco definitivo quello sì dalla quinta per crearti comunque ti metti da parte la Champions dell'anno prossimo che è Bruscolini non solo e ti dedichi in quel caso sì all'Europa nel frattempo recupererai anche qualche infortunato nel frattempo in questo lasso di tempo Giacomo chi ha ragione Max o Alberto? questo si si sta supponendo che l'Inter vinca sempre la Juve vince sempre il Milan deve riprendersi Leao io invece sono dal parere che il campionato è ancora lungo come ho detto prima ho detto che dipende durante l'arco del campionato delle situazioni che si creeranno nelle varie squadre perché se tu vieni a perdere per strada dei giocatori importanti cambia già totalmente tutto noi stiamo facendo un discorso per quello che è successo ma non sappiamo cosa succederà sul discorso di Leao invece io farei una campana di vetro a Giroud perché se stiamo aspettando ancora che Leao possa dare qualcosa in più secondo me è passato il tempo adesso possiamo andare non è mai stato continuo con il titolo su Leao eccolo qui guardate Leao non segnava il 27 settembre ragazzi siamo al 18 gennaio ma lui non è mai stato un grande pompa no però non ha mai avuto un'astinenza così lui secondo me lui al Milan diventa fondamentale se è quello che crea la superiorità numerica e manda in porta i suoi compagni perciò poi se farà tanti gol anche lui bene per lui tutto quello che vuoi però un attaccante che fa tre gol alla ventesima giornata scusate mi dite quando ha fatto dieci partiti di altissimo livello nell'anno dello scuoletto l'anno dello scuoletto l'anno dello scuoletto è stato 10 diciamo le ultime 7 8 sicuramente no aspetta se stai parlando delle ultime è un discorso io parlo dall'inizio del campionato ha sempre avuto alti e bassi segnava un po' di più però per me uno determinante Fede è uno che è l'autaro di quest'anno Leao non è continuo secondo me sono questi leao non è continuo l'abbiamo sempre detto non può essere determinante però un imprevedibile il problema è noi stiamo parlando lui ha detto ma anche tu hai detto è determinante la forma di Leao e se rientra in forma e se diventerà determinante ma per diventare determinante un giocatore vale per Leao ma vale per tutti devi essere costante tutto l'anno poi puoi avere due o tre partite quattro partite che non sei a posto ma con questo Jack ma con questo ti spieghi perché Leao sia ancora in Serie A e non è per esempio al Manchester City al Real Madrid perché i numeri ce li ha ma non ha la continuità ma scusa hai numeri hai numeri allora io ti dico l'ha fatto vedere tante volte ma scusa allora ti faccio un esempio non ci dimentichiamo la partita con il Paese guarda io sui paragoni non sono tanto d'accordo però stavolta te lo devo fare allora parliamo di continuità di tutti i tipi rendimento in campo realizzazioni tra lui e Berardi che hanno due ruoli uguali Berardi ma aspetta da quanti anni tu hai detto continuità aspetta da quanti anni Berardi Berardi nei ultimi 5-6 anni credo abbia partecipato a 100 gol di per Sassuolo no ma aspetta e Sassuolo io ti ripeto aspetta ma Sassuolo gioca contro il Mila contro la Juve contro lì altri obiettivi altre pressioni allora vedi che non si può parlare io odio i paragoni però adesso parlando di continuità ho preso due che super giù uno a sinistra l'altro gioca a destra hanno i ruoli super giù uguali parlo di continuità due giocatori che hanno super giù lo stesso ruolo io sto parlando di Berardi ho messo Berardi perché la continuità di Berardi è devastante nei ultimi due trani non venirmi a dire perché gioca nel Sassuolo gioca nel Sassuolo ma è nel campionato italiano e gioca con dei giocatori nella sua squadra inferiori ai tuoi del Milan di Leao sicuramente come qualità e ti fa 13-14 gol all'anno più assist e allora questo è continuo non Leao non Leao perché se mi sai 7 partite alla fine dai oltretutto questo era l'anno del rinnovo di contratto diventava il giocatore più pagato della rosa cioè Marcello questo era l'anno in cui ci si aspettava che Leao facesse lo scatto invece paradossalmente Leao sta facendo peggio dell'anno scorso di due anni fa ma perché noi abbiamo esaltato troppo Leao cioè noi siamo volubili quando esaminiamo le cose di calcio non tutti chiaramente ma in maggioranza la maggioranza è sempre volubile se fai bene sei bravo se non fai bene bisogna trovare sempre una via di mezzo Leao abbiamo sempre detto che l'abbiamo classificato tra i top player ma a quale titolo a quale titolo l'abbiamo estretto perché l'anno dello scudetto ha fatto sì ha fatto quell'anno ha fatto le ultime passate partite Marcello è sempre stato molto discontinuo non possiamo mettere in dubbio Leao come non si poteva mettere in dubbio è un ottimo giocatore non è ancora nella categoria dei top io posso dire una cosa veloce un attaccante che fa tre gol io sono d'accordo uno per essere un attaccante esterno Vinicius è un attaccante esterno ne fa 30 Baffè è un attaccante esterno ne fa 50 stiamo parlando di un altro livello scusa l'anno scorso guarda schede quanti gol ha fatto? non mi ricordo ma 12 però è andato in doppia cifra ma e quanti assist in doppia cifra allora io sono d'accordo con Marcello uno che è determinante uno che secondo me è un fenomeno deve dimostrarmelo nel rettacolo anche Leao è andato in doppia cifra era un discorso poi non voglio dire che Leao nel giro di 95 minuti fa uno strappo lascia lì due ne dribla tre e fa gol devi essere continuo ma se tu me lo fai e poi per 5 partite non ci sei più non sei uno determinante non sei determinante secondo me il determinante è chi è costante io ti ho fatto l'esempio di Berardi ripeto io non faccio mai paragoni perché uno è diverso dall'altro ho preso due giocatori che su per giù giocano nello stesso ruolo ragazzi Berardi fa dai 10 ai treggi gol all'anno più 7, 8, 9, 10 quello è determinante ma la mia premessa qual è stata? la mia premessa qual è stata? se Leao gioca comincia a giocare come l'anno dello scudetto o comincia a alzare l'asticella perché l'asticella di adesso è completamente a terra allora a quel punto lì il Milan ha un'arma in più oltre ai veri giù però Max noi siamo partiti adesso noi siamo siamo allora abbiamo sempre detto che la Juve è lì era attaccata lì nonostante non avesse ancora Chiesa e Vlaovic adesso stanno arrivando Chiesa e Vlaovic ok? io lo stesso discorso lo faccio per il Milan il Milan è lì a 9 punti a 7 punti non avendo mai avuto Leao e avendo avuto 30 infortuni quello che dico io la coppia centrale dietro è Gabbia Chiera in questo momento sono fuori per due mesi i tomori ciao prima momento Gabbia Chiera è l'unica l'uomo che c'è migliorato più garanzie Calulu Calulu rientra a marzo ciao e tu mori a febbraio quindi ancora ci vorrà un bel po' di tempo prima si citava l'anno scorso di Leao l'anno scorso Leao comunque ha fatto 16 gol e 15 anni questo migliore anno a livello realizzativo ma è campionato? sì tra campionato tra campionato no no stagionali tra campionato 15 gol ma l'anno scorso è grande stagione infatti il Milan ne fa l'investimento gli rinnova il contratto quest'anno tu passi da 15 gol a 3 poi è vero che per carità c'è ancora tutto il giorno di ritorno però secondo me è stato un handicap per il Milan il Leao di questo giorno in andata assolutamente sì quello ti dico io nonostante ripeto non abbiamo avuto il migliore ma neanche il normale Leao il Milan è lì a 9 punti e a 7 della seconda ma da quant'è che scusa ti posso fare una domanda? da quest'anno da quanti anni è che stai aspettando Leao? da quest'anno perché l'anno scorso i numeri sono scorsi anche il quarto il finale a Napoli di Champions vinse da solo ma l'anno scorso mi sembrava pronto proprio a quel salto di qualità i numeri vanno pesati vanno pesati vanno pesati 16 gol ai 9 assi cosa devi pesare 16 gol quante ne ha fatti bisogna vedere chi ce ne ha fatti però Marcello Marcello esatto mi ricordo in un quarto di Champions a Napoli in cui praticamente segna Giroud ma lui salta tutto il Napoli infatti però in altre circostanze è mancato cioè nei derby ad esempio nei derby ma in derby quello d'andata non lo giocò uno può dire quello che vuole può andare sull'iPad a vedere i numeri allora io voglio vedere i numeri non solo dall'anno scorso però perché è troppo facile io voglio un giocatore continuo allora sì che allora dico questo giocatore se ha continuità nel rendimento durante l'anno allora sì che è un fenomeno e fa la differenza ma se uno c'è e poi non c'è c'è non c'è non può fare la differenza se noi ne parleremo e partiremo proprio dal dal cortomuso che non c'è più Marcello io ti ho anche sentito sui sui tuoi video che fai e tu mi segui io ti seguo sì sì no no ma perché tu sei molto molto interessante anche negli spunti ma perché devi dire così ma è la verità ma è una falsità perché in pubblicità non ha detto questo ha detto seguo Marcello ma non si può vedere no Marce Marce no volevo dire ti ho sentito vedi come sono mistificatori gli interisti sono mistificatori e bugiardi ma chi è l'interista è il Torino tanto avevamo tutti i microfoni aperti quindi lo sai no però perché dico che ti ho sentito perché tu dopo la partita col Sassuolo hai detto ora è ufficiale il cortomuso non c'è più la Juve gioca fa gol diverte e quando quando io la guardo adesso sono anche sereno confermi Marce Salernitana Salernitana 2-1 al novantesimo in 10 la Salernitana 4-0 col Frosinone 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 non c'è ancora giocato con l'Empoli ma ha detto lui ha suggerito scusa ma ha detto anche che vince lo scudetto non l'ha detto ragazzi gli ultimi tre in classifica incontrato oggi fatto o ci siete oggi fatto o ci siete perché io non ho detto cioè lui che mi segue Federico sa tutto tutto l'escursus per arrivare a dire non c'è più anche noi ti seguiamo perché no noi ti seguiamo diverso Federico molto di più molto di più quell'altro tira fuori ancora l'Empoli abbi pazienza è lui che ha detto fuori l'Empoli è Giacomo è il 30 agosto sto parlando di tre mesi fa cioè io sto dicendo che gradualmente la Juve ha abbandonato il cortomuso l'ha dimostrato in Coppa Italia facendo sei gol alla Salernitana e quattro al Frosinone e pian piano cioè sta acquisendo un'altra mentalità anche in campo più offensiva cioè la Juve crea di più crea di più infatti segna di più infatti con la Salernitana abbiamo visto infatti ma con la Salernitana io invece proprio perché la Juve è migliorata la Salernitana è andata sotto è andata sotto al trentesimo del primo tempo e nonostante tutto questo l'ha recuperata non su rigori c'è stato un dettaglio un cartellino rosso all'inizio del secondo tempo per la Salernitana tu la devi piantare ma no ma se tu dici se tu dici che la Juve ha crea ma scusa ma se rimane in 10 l'ultima è in classifica sarà una penalizzazione no no ma Marcello Marcello ma secondo me non è ma no è rimasta in 10 la Salernitana è rimasta in 10 giustamente ho capito ma io mi ho detto giustamente ho detto che però tu non è che hai fatto lo squadrone che vince 5 a 0 1 a 0 11 contro 10 al novantesimo a fatica in quella circostanza è stata 96 96 se no 96 94 sì nel recupero 90 91 comunque deve essere anche 101 non cambia niente ma era finita la battita avete fatto cosa la Juve ma non c'entra niente anche l'ultimo secondo vale se tu ci credi e comunque fai una partita per andarla a vincere la partita la vince e la Juve ha fatto quel tipo di partita lì ma perciò adesso siete da Scudetto Marcello sì siamo da Scudetto ah meno male uno che dice la verità oh meno male io lo dico da inizio stagione mi prendevano in giro sei scaramantico qua io ho sempre detto che la Juventus aveva tanti margini di miglioramento tipo Vlaovic e adesso sta spiegando ma tutta la fai sotto è diverso no no io l'ho sempre detto sinceramente quello che pensavo l'ho sempre detto nessuna fare sotto però è vero che guardando adesso i due attacchi quello della Juve forse ha anche più soluzioni c'era Lautaro e Turam per carità Lautaro e Turam la Juve è più omogenea ma poi soprattutto nella fase di miglioramento nel processo di miglioramento di questa squadra non solo è migliorato anche il gioco la proposta di gioco che è più offensiva e meno difensiva ma soprattutto si mette in condizione anche l'attacco di segnare adesso sono tornati a segnare gli attaccanti però scusa scusa Max sul discorso è tornato a fare il paragono con gli attaccanti dell'Inter secondo me non si può fare adesso noi cominciamo un parco attaccanti però cominciamo a dire perché Vlaovic sta segnando ma oltre a Vlaovic cioè Lautaro ha fatto il doppio chi ha segnato Hildiz però è tanta roba no ma ho capito no ma io sto non sto dicendo che è scarso è bravissimo oggi se tu devi scegliere tra Hildiz e Sanchez chi sceglie? sì però se andiamo a valutare in questo momento la forza dell'attacco Sanchez cioè lo ricordi due anni fa al centoventesimo te lo ricordi al centoventesimo ultimo secondo Sanchez sì tre anni fa quant'è tre anni fa ma quindi tu tra Hildiz e Sanchez prendi ma Hildiz è un giocatore portico a me piace da questo no capito che lui inizia con la risata come se stesse parlando dell'ultimo arrivato scusa Michele ma cosa c'è tra il paragone Sanchez ha fatto due da lì ma cosa c'è sono due riserve che entrano a partita in corso comunque adesso oggettivamente riserve poi magari Hildiz a volte titolari l'autora non si discuterò però il paracot attaccanti sulla carta della Juventus quattro attaccanti poi c'è il paragone poi c'è il paragone ma Arnauto dice Sanchez ma non c'è paragone smettila che fino a due domeniche fa aspetta addirittura gli Juventini andiamo a vedere la registrazione cosa diceva di Vlaovic no aspetta di Vlaovic Ken sono dei fondi aspetta Vlaovic Ken poi con chi ci avevano Vincenzo Milic Milic è vero è vero ma noi stiamo facendo un altro tipo di ragionamento adesso perché la Juve è migliorata perché anche Vlaovic riesce a segnare e essere più utile per la squadra e ha cominciato di nuovo a fare gol Marcello quello hai ragione questo è Vlaovic che serviva e Vlaovic lì che c'era prima non serviva e lo si criticava giustamente su quello che la Juve sta migliorando che sta segnando Vlaovic e via dicendo è un altro discorso però Federico ha fatto un'altra domanda ha detto il valore dei due attacchi perciò io ho espresso il parco attaccanti non dei due attacchi io parlo del parco attaccanti non si è titolare no allora mettiamo il parco attaccanti su questo parco io non discuto Marcello Marcello perdonami quello che hai detto tu va benissimo perché la Juve è migliorata perché è rientrato Chiesa grazie a Dio ha fatto gol sono contento per lui Vlaovic ha fatto due gol bellissime però su questo non si discute il discorso di mettere e valutare i due reparti d'attacco perdonami ma fino a due tre domeniche fa io mi ricordo che Vlaovic è stato massacrato hai ragione sì hai ragione ma adesso è cambiata perché poi il campionato parte a settembre parte ad agosto e finisce a maggio e tutto può cambiare un divenire in questo momento se tu paragoni l'attacco dell'Inter con quello della Juve se quello della Juve funziona tornano a segnare con continuità Vlaovic cioè nel senso che Vlaovic e Chiesa adesso mantengono questo rendimento è superiore a quello dell'Inter perché oltre Lautaro tu hai Arnautovic e Sancho ha ragione Vlaovic ha ragione anche Max allora io però ti dico come mai ultimamente sto vedendo la graduatoria dei migliori attacchi europei e c'è dentro quello dell'Inter ma come i numeri dici dell'autaro e Turam hanno fatto l'autaro ma io devo andare a vedere i numeri certo perché se io parlo di attaccanti non vado a vedere cosa ha preso in pagella vado a vedere Golfatti e assist chi tiene in piedi l'attacco dell'Inter l'autaro se non sbaglio Turam Marcello aiutami Michele chi c'è davanti Manchester City l'attacco del Manchester e Bayern Monaco con Kane allora due due squadre sono davanti perciò di che cosa parliamo se vogliamo parlare c'è Lautaro che trascina tutto l'attacco è un altro discorso ma c'è Lautaro che trascina tutto l'attacco con la sua media goal ha una media goal pazzesca Lautaro e quindi trascina però sembra sembra che stia molto bene il suo compagno di reparto Turam ha fatto 8 gol 3 assist e 3 rigoli procurati sono 18 gol in cui è entrato ma stai scherzando Turam sta facendo poi parliamo di parco attaccanti e il parco centrocampisti ne vogliamo parlare prima di parlare in centrocampo siamo d'accordo se tu vai a vedere le riserve se si fa male Lautaro ragazzi se si fa male Lautaro cosa succede? Gionellavia se si faceva male Maradona nel Napoli non c'era Maradona certo certo ma questo vale per tutte le squadre se si faceva male Van Basten nel Milan si faceva male ma ragazzi Van Basten nel Milan c'era una cosa ma tu stai parlando di Lautaro perché in questo momento ha fatto più gol di partite io allora ti dico loro loro parlano noi dell'Inter noi dell'Inter ho sbagliato stavo dicendo noi o loro dell'Inter noi abbiamo dei centrocampisti parto da Ciananogo non do come dei gol e non so qualsiasi parto da Michittare parto da Barella frattesi in base ai minuti giocati ha fatto più gol che minuti di giocano ma di che cosa stai parlando? è successo ho fatto il pareggio a Genova ragazzi c'è la sigla